Comunque, tornando a parlare di Nick Katsuto Ryder, una canzone per il boss, e Storie Cult, l'uomo di Chicago, che ancora non li ho letti, perché io vado sempre molto slow, very slow, 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 però ci sono alcune curiosità che non sono niente male. Per esempio, nel redazionale di questa miniserie di Nick Ryder, che si intitola Posta Gialla, ci sono sempre nozioni e curiosità molto interessanti per quanto riguarda i polizieschi investigativi, ma anche le serie. E in questo caso si parla, per esempio, della serie Mindhunter, che sia nei personaggi che nelle ambientazioni ricorda un po' il mitico silenzio degli innocenti. E a me mi fa venire in mente anche il silenzio dei prosciutti di Ezio Greggio, come dimenticarlo? Quindi un punto in più per la miniserie di Nick, che oltre ad offrirci belle storie, ci dà anche delle ottime nozioni. Quindi, assolutamente. E poi bellissima la copertina, che mi aveva fatto già notare Johnny Cash, del prossimo numero, che sembra essere quasi il poster, la locandina di un film. Assolutamente. Per quanto riguarda invece le storie cult, l'uomo di Chicago, di Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini, che raccoglie anche cinque storie brevi di Martin Mister, di queste cinque storie brevi, tre io già le avevo lette in un Martin Mister extra dal titolo Il Sorriso della Gioconda. Infatti qui ce ne sono proprio, c'è proprio Il Sorriso della Gioconda, che già avevo letto. C'è anche Space Invaders, di cui ho letto anche la versione lunga, Fantasmi a Manhattan, bellissima. Anche quella è Il Viaggiatore del Tempo. E nel finale, come ultima storia inedita, c'è questa di una sola pagina, che si intitola Il Mistero della Tartina Imburrata, che mi ricorda una bellissima battuta del mitico Joelle Dix, che spiegava, ma perché ogni volta che mi capita di imburrare la tartina, quando mi cade, mi cade sempre dal lato imburrato? E il guru risponde, ma è facile, no? Perché imburri sempre dalla parte sbagliata. Grande Joelle. E poi, altra curiosità, che il prossimo numero delle storie cult sarà dedicato proprio a Nick Rider. Ci sarà quindi una ristampa proprio su Nick Rider della storia intitolata Immagini di Morte, che assolutamente non me la perderò. Sulle strade di New York c'è un poliziotto che non molla mai la presa. Il Nick Rider di Claudio Nizio di Nuovo e di Nicola con una miniserie inedita per celebrare l'evento, le storie cult vi ripropone una delle sue indagini classiche. Insomma, due ottimi fumetti per celebrare, insomma, questi fumetti, vedi, vecchio stampo, vecchio stile, di cui veramente ce n'era bisogno. Altro che. Quindi, sempre forza Marty Mister, e sempre forza Nick Katsuto Rider. E sempre forza Nick Katsuto Rider. Grazie.